Allora, ricordate l'esercizio della scorsa settimana in cui avevamo risolto quel rompicapo della scacchiera con 0,1,2 con la procedura ricorsiva. Ci avevamo detto che sarebbe carino vedere qual è l'andamento del tempo di esecuzione al variare dal lato della scacchiera. Non so se voi l'avete fatto, questa prova, io l'ho fatto, ma in realtà ho fatto anche un piccolo passettino in più che quello di incasellare questo corso di ricerca all'interno di una piccola interfaccia grafica, che è nulla di speciale, nel senso che alla fine ho costruito un controller che avesse un metodo ducalcola che internamente chiama il metodo contrasoluzioni della classe si chiamava ricerca, l'ho chiamato model perché in questo esercizio qua svolge il ruolo del modello la classe ricerca di prima, che abbiamo fatto il ruolo insieme la volta scorsa, e poi stampo il tempo, nulla di speciale. Partiamo da qui perché ci sono alcune cose che non vanno bene. Allora, questa è una semplicissima applicazione in cui ho messo uno spinner per modificare il lato della scacchiera quindi se è una scacchiera di 2x2 mi dice che in totale ci sono 8 soluzioni e ci mette un tempo ridicolo, tra 0 e 1 millisecondi se la scacchiera ha lato... non stampo qua tutte le soluzioni, solamente il numero e il tempo se la scacchiera ha lato 3, ho però 48 soluzioni, anche qui è praticamente istantaneo trovarle se la scacchiera ha lato 4 comincia ad avere 512 soluzioni se ho lato 5, il numero che cercavamo, 12.288 si vede che il tempo necessario per trovare le soluzioni in realtà è di pochi millisecondi infatti è istantaneo. La settimana scorsa ci abbiamo messo di più perché stampavamo tutto quindi in realtà la maggior parte del tempo l'applicazione lo spendeva a fare scrolling di tutto quel testo stampato ma in realtà il tempo di calcolo è veramente ridicolo e quindi posso anche azzardarmi a provare ad aumentare il lato della scacchiera quindi al lato 5 comincia ad essere percettibile, nel senso che è diverso da 0 in millisecondi il tempo se vado sul lato 6 il numero di soluzioni aumenta in qualche modo è imparentato con l'esponenziale del numero di caselle e il numero di caselle è il quadrato del lato, quindi cresce come un doppio esponenziale 3 o 2 elevato a lato al quadrato e quindi ci mette dei tempi che sono dell'ordine dei 150 millisecondi poi fate sempre attenzione, dipende molto dal computer che avete se ce l'avete attaccato alla corrente o se andate a batteria il processore ha due velocità diverse quindi troverete risultati diversi ma chiaramente nelle stesse condizioni trovate tempi analoghi e quindi mi posso anche spostare su lati maggiori ecco qui comincia ad avvertirsi il lato 6 risponde in un decimo di secondo meno di due decimi di secondo e il lato 7 comincia a farmi il vino del dubbio se si è bloccato o no ci ha messo a 12 secondi e il numero di combinazioni sono dell'ordine di quante sono se non sbaglio a leggere il numero sono 50 milioni di soluzioni diverse lo faccio ricalcolare per sicurezza questo è un tempo su 8 non ci provo nel senso che non so se ci mette 10 minuti o qualcosa di questo genere io dopo qualche minuto l'ho interrotto perché avevo altro da fare chiaramente il numero di soluzioni è esatto il tempo è sempre lo stesso il tempo invece è un pochino fluttua quindi se qualcuno avesse pazienza provare con valori più grandi riesce ad avere un'idea di quale sia il grafico del numero di soluzioni e il grafico del tempo di soluzione ma anche senza andare su valori più alti che non è il mio obiettivo in questa prima ora ma è quello di farci notare che cosa succede all'interfaccia grafica quando il programma deve calcolare qualcosa di pesante io clicco su calcola sappiamo di nuovo sul 7 sappiamo che dovremo aspettare una decina di secondi abbondante mentre il programma calcola l'interfaccia grafica è morta se io sto cliccando qua e là non fa nulla dopo un po' Windows si arrivi e mi dice questo programma non risponde poi torna a essere no, continua a essere non risponderà fino a... ah, perché ho prenduto un calcolo e adesso lo sta ricalcolando cioè, mentre il programma lavora l'interfaccia grafica è congelata immobile, non fa nulla e se provo a cliccare su qualche bottone non succede nulla anzi, Windows si arrabbia perché dice che questa applicazione non risponde ai tuoi comandi non risponde ai tuoi eventi allora, questo chiaramente non è piacevole non è accettabile in un programma vero quindi oggi cerchiamo di capire come si affronta questo problema quindi, finora un problema non l'abbiamo percepito perché fino a quando i tempi di reazione torno sul 6 di un gestore dell'evento sono dell'ordine di frazioni di secondo l'utente neanche volesse riesce a cliccare questo così in fretta da creare dei problemi quando però i tempi di esecuzione superano il secondo o qualche secondo e il problema è che la finestra non risponde vedete, anche se cercassi di spostare la finestra non riesco a farci nulla e tirare su e poi finalmente quando l'elaborazione finisce e quindi il gestore dell'evento termina posso lavorare allora, cerchiamo di capire perché succede questo e come fare a complicarci la vita per fare in modo che l'interfaccia sia più dinamicamente gestibile e per questo dovremmo parlare un po' di concorrenza all'interno del JavaFX concorrenza non con la concorrenza dei mercati ma come cose che vanno avanti in parallelo quindi parallelismo esecuzione concorrente di diverse attività cioè noi vogliamo che il programma contemporaneamente permetta di gestire all'utente di giocare con l'interfaccia utente e contemporaneamente vado avanti con i calcoli allora dove arriva il problema? il problema arriva dal fatto che la libreria JavaFX per sua natura è una libreria che si dice single-threaded non so se avete avuto già dei cenni sul threading in Java ma l'idea è che un'applicazione normalmente ha un flusso di esecuzione unico quindi parto dal main e poi da lì in funzione delle varie chiamate vado avanti però c'è un punto solo di esecuzione del programma in realtà Java supporta l'esecuzione di thread multipli il thread è un flusso di esecuzione no? un filo diverso del discorso quindi in qualche in qualche momento se ci serve possiamo dire va bene noi andiamo avanti con la posizione principale ma nel frattempo creiamo un thread parallelo che vada avanti per conto suo e faccia altre sue cose come se fosse un'altra applicazione come se tu aprissi due finestre sullo stesso testo poi possono andare avanti in parallelo indipendentemente l'una dall'altra ecco il threading è una cosa più piccola rispetto a aprire due finestre cioè aprire più attività di calcolo interne alla stessa applicazione Java in JavaFX questo non avviene tutto tutta l'applicazione JavaFX vive infatti finora non abbiamo mai dovuto parlare all'interno di un singolo thread e cosa avviene dentro questo thread beh essenzialmente l'applicazione JavaFX ricordiamo la classe application da cui noi ereditiamo i nostri programmi è un grosso ciclo di elaborazione di eventi cioè l'utente muove il mouse allora devo scatenare l'evento mouse moved a qualcuno interessa questo evento mouse moved no a nessuno e allora va bene andiamo avanti l'utente clicca sulla frecciolina per aumentare il numero a qualcuno interessa che l'utente abbia cliccato sì la frecciolina stessa lo vuole sapere allora incrementa il numero allora chiamo il gestore di evento di quella frecciolina su quell'elemento in questo caso è un gestore di evento già definito dal componente stesso l'utente ha cliccato su calcolo a qualcuno interessa che l'utente abbia cliccato su calcolo sì a noi due al bottone che vuole farsi vedere premuto quindi c'è l'animazione per farsi vedere premuto e alla nostra applicazione che vuole lanciare l'algoritmo ricorsivo e allora questo evento viene passato da uno all'altro a tutti diciamo così le classi interessate a conoscerlo è un loop così cioè il gestore dell'interfaccia grafica aspetta che succeda qualcosa qui genera eventi intercetta gli eventi e lì passa a chi li deve gestire finito la gestione di un evento passa a quello successivo quindi è una grossa lunga coda di eventi e questi eventi vengono elaborati uno alla volta fino a quando non ho finito di elaborare l'evento precedente non passo a quello successivo quindi se un event handler qui nel nostro caso il Ducalcola è lungo ci mette tanto tempo a corrispondere l'elaborazione di tutti gli altri eventi successivi compresi quelli per spostare la finestra per spostare il numerino per far salire e scendere la scroll bar della finestra di testo tutti eventi del stesso tipo di interfaccia utente rimango in attesa che l'evento precedente cioè il clic sul bottone venga terminato ne venga terminata l'elaborazione e quindi se ho un elemento lento mi blocca tutto il tutto il resto dell'interfaccia fin tanto che lui non ha risposto quindi dal punto di vista stiamo così nella mappa di ciò che succede possiamo modellarlo così poi dopo aggiungeremo dei pezzi a questa figura se non fosse già complicata di per sé noi abbiamo il grafo della scena no? la nostra scena su questa scena l'utente fa qualcosa sposta il mouse clicca da qualche parte sposta la finestra la ridimensiona allarga la stringe scrive qualcosa dentro un campo di testo gli utenti nostri non stanno mai bravi fanno sempre qualcosa sull'interfaccia ogni azione che un utente fa sull'interfaccia viene accodata viene messa in una coda dalle quali tutto ciò che avviene viene accodato e verrà poi elaborato uno per volta da questa coda viene elaborato un evento alla volta quindi estraggo il prossimo evento da elaborare e lo elaboro l'elaborazione in evento combina dicevamo il comportamento predefinito cioè quando premo un bottone lui si muove per far vedere che è stato premuto più eventuali event handler definiti da noi ok? tutto questo fa parte dell'elaborazione dell'evento questa elaborazione dell'evento mentre le azioni dell'utente possono essere molte possono avvenire in qualunque momento gli eventi invece vengono elaborati uno dopo l'altro uno per volta in ordine alla fine cosa fa un evento può il gestore di un evento può modificare il grafo della scena sappiamo quindi io vado a scrivere qualcosa in un campo di testo cambio lo stato di un bottone e cose di questo genere cambio le proprietà del grafo della scena lo posso fare qua dentro e quindi viene aggiornato il grafo della scena che al turn dell'elaborazione dell'evento stesso potrà aggiornarsi anche visivamente al termine dell'elaborazione dell'evento potrà aggiornarsi visivamente quindi se noi avessimo un gestore dell'evento che ci mette tanto tempo e al suo interno qui scrive delle cose in interfaccia qui sono arrivato al 10% sono arrivato al 20% spettacolo un po' ho quasi finito queste scritte non verrebbero viste man mano che vengono stampate perché verrebbero viste solamente quando l'elaborazione dell'evento è finita e la modifica della scena viene propagata al grafo della scena e l'interfaccia grafica a tempo tocca a lei a tempo di aggiornare la videata quindi se voi provate da una vediamolo se io scrivessi dal mio programma java quando stampa lato soluzioni prima potrei dire txt result append text partenza diciamo sono partito così ti fa vedere che sono partito e poi tu aspetti ti farà vedere che ha finito quindi stampa questo messaggio partenza prima di lanciare la procedura ricorsiva quindi subito immediatamente cosa succede se facessi questo se io premo 5 calcola mi stampa partenza lato 5 ovvio è talmente veloce che non ho visto la differenza tra la prima stampa partenza che avviene prima della chiamata ricorsiva e la seconda stampa che avviene dopo allora passiamo al lato 7 che sappiamo che ci mette tanto calcola ecco io ho premuto calcola la scritta partenza non compare non compare e non comparirà fin tanto che saranno passati con i 12 secondi e poi compare contemporaneamente la prima e la seconda stampa sembra un po' anti intuitivo ma come sarebbe cioè io ho stampato questo qui poi ho fatto un lavoro da 12 secondi poi ho stampato un'altra cosa perché mi fai vedere tutto insieme è perché queste tre operazioni prima stampa elaborazione seconda stampa sono tutte qua dentro dentro la porzione dell'evento solo dopo che l'evento era terminato il controllo torna al grafo della scena che si aggiorna quindi ho la proprietà interna al nodo di testo l'ho aggiornata l'ho modificata ma visivamente il grafo della scena non si è aggiornato perché non toccava lui qui c'è un giro unico un ciclo in cui quando si aggiorna il grafo della scena non sto elaborando gli eventi quando sto elaborando gli eventi non sto aggiornando il grafo della scena quindi le proprietà degli eventi sono cambiate ma visivamente sul schermo non è cambiato nulla quindi questo modello a single thread ha questi due problemi il primo problema è che se un evento richiede molto tempo gli altri eventi restano in coda in attesa e quindi l'interfaccia sembra bloccata all'interazione non accetta interazione e secondo è che il risultato di questa elaborazione potrà modificare la scena quindi potrà essere visibile all'utente solo dopo che sarà tutto terminato non è possibile mostrare dei risultati parziali il che è molto brutto in qualunque applicazione quando lanciamo un'operazione lenta siamo abituati perlomeno a avere una barra di progresso qualche indicatore che mi dica guarda sono vivo sto andando avanti aspetta un attimo ma ci sono invece se se lo facessi mi stamperebbe soprattutto al fondo dopo che io sono stato in pensiero per lui davanti a uno schermo bianco per delle ore quindi qual è la soluzione la soluzione è fare in modo che un evento il gestore di un evento sia lento si richiede molto calcolo non stia in mezzo ai piedi rispetto al ciclo di gestione dell'interfaccia utente che deve essere veloce rapido leggero quindi vogliamo fare in modo che la gestione degli eventi lenti che richiedono molta elaborazione venga eseguita in parallelo rispetto alla gestione dell'interfaccia utente principale l'interfaccia utente risponda sempre istantaneamente e nel frattempo se l'elaborazione è lunga se vuole 5 minuti 10 1 2 ore vada avanti ma non mi blocca tutto per 2 ore l'idea è semplice lancio un altro in Java si chiamano thread parallelo all'interno del quale faccio i calcoli c'è un problema però che è quello che ci complica la vita è che ogni qualvolta ho due flussi di esecuzione paralleli due thread quello principale in JavaFX è quello in cui girerà diciamo nel nostro esempio la postura ricorsiva e questi due thread sono all'interno della stessa applicazione e quindi possono vedere condividere delle variabili degli oggetti ci sono dei rischi di integrità dei dati se noi siamo in parallelo lavoriamo ognuno per conto proprio con i suoi tempi e dobbiamo lavorare su una variabile condivisa penso il modo o anche solo la casella di testo in cui dobbiamo scrivere i risultati e se per caso proviamo a scriverci insieme contemporaneamente non è definito il risultato finale se io e te cominciamo proviamo a scriverci insieme contemporaneamente può darsi che venga scritto solamente ciò che hai scritto tu o che venga scritto solamente ciò che ho scritto io o che venga scritto prima ciò che ho scritto tu poi ciò che ho scritto io in quest'ordine o magari nell'ordine inverso o magari le lettere mescolate perché? perché dipende dalla velocità relativa da che cosa stanno facendo le due applicazioni quindi è sempre un rischio ed è vietato che due o più thread diversi modifichino contemporaneamente le stesse variabili Java spara un'eccezione in questi casi e quindi bisognerà fare attenzione a sincomizzarci bene altrimenti rischiamo di avere un risultato che non è giusto che non è corretto poi vi faccio vedere un esempio che salta fuori e dici cos'è quel numero? poi ci ragioniamo alla fine vedete che arriveremo passeremo da quel punto in cui ad esempio un caso molto semplice ma in cui si vede questo problema come regola generale però ricordatevi sempre ogni variabile è di proprietà esclusiva di un thread ogni oggetto se lui se la può modificare eccetera ma non lasciamo mai un oggetto in preda alle modifiche contemporanee da più di un thread poi vediamo in pratica in JavaFX questo cosa vuol dire che conseguenze ha allora la nostra figura la modifichiamo in questo modo la nostra applicazione non avrà più un solo thread ma ne avrà due almeno due uno che è quello principale che si chiama il thread di JavaFX e l'altro chiamiamo trend di background che lavora nello sfondo nel background e faccio che deve fare quindi cosa succede quando io ricevo un evento del tipo calcola quando ricevo un evento del tipo calcola il gestore di evento non farà lui il calcolo creerà un nuovo thread parallelo e dirà questo nuovo thread parallelo fa il calcolo l'operazione per creare un nuovo thread e farlo partire è un'operazione velocissima sono due istruzioni e poi il thread parte e va avanti per quanto suo ma questo gestore di evento ha finito il suo lavoro e quindi può passare all'evento successivo quindi la mia elaborazione dell'evento non diventa più faccio i calcoli ma faccio partire un thread che con calma si farà i calcoli in parallelo parte questo altro thread che viene eseguito in parallelo si può mettere 10 secondi si può mettere 200 non importa va avanti e prima o poi finirà nel senso che produrrà dei risultati ha risultato ha calcolato i risultati se non fosse che questa figura è un po' triste perché disegnata così quel thread è molto isolato si fa i suoi calcoli ma io non ho modo di riportare questo di qua il risultato io lo voglio vedere quindi almeno quando il thread ha finito mi piacerebbe riuscire a prendere quel risultato e farlo vedere nella grafia della scena solo che il gestore di evento che l'ha lanciato questo thread è già morto minuti fa non esiste più non è lì che sta aspettando il risultato anzi lui non deve aspettare deve lanciarlo e scappare quindi dobbiamo darci dei meccanismi in più affinché i thread in background possano comunicare in modo molto controllato con il thread principale per potersene un altro comunicare il risultato o anche solo comunicare lo stato di avanzamento quindi che tipo di comunicazione possiamo immaginare possiamo immaginare che il thread in background possa informare il thread principale sul suo stato di avanzamento sono al 10% o sono al 90% quindi un valore che il thread conosce speriamo sul proprio stato di avanzamento che rende noto all'applicazione principale che a questo punto può aggiornare l'interfaccia grafica di conseguenza oppure magari il metodo in background vogliamo che modifichi il grafo della scena adesso qui noi non l'abbiamo fatto io non l'ho fatto perché sono pigro e non abbiamo disegnato la scacchiera però potremmo disegnare una bella griglia in cui facciamo vedere i numerini 0,1,2 le varie soluzioni via via che le troviamo sarebbe anche carino da vedere cambiano vorticosamente ogni volta che ne trovo una diversa compaiono dei nuovi numeri sarebbe carino ma vorrebbe dire che un valore una soluzione che è stata calcolata da questo signore qua deve in qualche modo andare a modificare il grafo della scena ma abbiamo appena detto che è vietato per un thread modificare il thread rosso modificare oggetti blu è vietato per un thread modificare oggetti di un'altra scena di un altro thread in particolare tutti i thread che non sono quelli tutti gli oggetti tutti i metodi che girano in un thread diverso da quello principale non hanno il permesso di toccare gli oggetti che sono stati creati nel thread principale quindi dobbiamo trovare una soluzione anche per questo quindi dobbiamo trovare la soluzione a come fare avere un'informazione semplice molto sintetica a che punto sei eventualmente a permettere al thread secondario di modificare alcuni elementi dell'interfaccia grafica sincronizzandosi bene col thread principale in qualche modo che impariamo a fare ed eventualmente il risultato non mi serve solo visualizzarlo mi serve poi anche averlo magari nel modello ma anche il modello poverino è stato creato qua in questo thread principale il modello lo creiamo nel main anzi di metodo start che fa parte del thread principale e quindi questo event handler come fa a modificare le variabili del modello non si vede non è immediatamente visibile un po' di modificare la scena vedo immediatamente che cambia il modello in realtà non è immediatamente visibile ma forse è più interessante penso che alla fine il risultato di questa elaborazione rimane da qualche parte immaginiamo che mi voglia salvare queste scacchiere calcolate da qualche parte per poter riutilizzare o calcolare in modo diverso questo ultimo punto spesso si può un po' semplificare nel senso che mentre i primi due punti sapere il progresso e modificare la scena mentre vado avanti sono tipicamente elementi dovuti all'interazione con l'utente cioè la necessità di far vedere all'utente che qualcosa sta succedendo questo ultimo punto spesso è sufficiente a darlo alla fine è sufficiente che alla fine dell'elaborazione ci sia un valore che venga riportato indietro dal thread dal thread secondario al thread principale e poi venga salvato nel modello intanto non è nulla come dicevamo immediatamente visibile quindi se lo faccio alla fine anziché farlo di continuo non mi cambia nulla anzi mi crea meno problemi perché farlo di continuo vorrebbe dire andare a avere due thread diversi che cercano di modificare il modello per i propri scopi allora come facciamo quindi a complicare la nostra figura per permettere al thread secondario in qualche modo di comunicare alcune informazioni verso il thread principale allora rispetto alla figura precedente abbiamo aggiunto due scatole che sono qua a cavallo di questa sbarra quindi che permettono di scavalcare la barriera tra i thread una è facile progress properties noi più avanti faremo un discorso un pochino più articolato sulle properties in java effects noi le abbiamo già viste sugli singoli elementi set visible set enabled sono tutte proprietà dei nodi della scena in realtà il concetto di property in java effects è più ampio rispetto ai nodi delle scene non si possono definire delle proprietà su qualunque oggetto è un po' un concetto più esteso rispetto ai java bing il java bing è un get in set per le singole proprietà interne il java effects ha delle proprietà che sono un pochino più articolate in realtà hanno tre metodi ciascuna ma al momento non ci interessa perché non creiamo ancora bing java effects con le proprietà propriamente dette però quello che ci interessa sapere è che non solamente i nodi della scena ma qualunque tipo di oggetto può esporre delle proprietà proprietà che quindi possono essere interrogate tramite i loro metodi get set da altri oggetti anche in modo asincrono allora una delle proprietà che viene pubblicata messa a disposizione da parte di questo thread in background è una proprietà che si chiama progress in realtà sono due che quindi immaginate il thread parallelo con una scatola nera voi non sapete cosa sta succedendo lì dentro non potete guardarlo perché quegli oggetti vivono in un thread diverso dal vostro se li guardate vi fate male però sul bodo di questa scatola nera c'è un'etichetta con un numerino che dice a quale percentuale sono arrivato allora quell'etichetta essendo sul bodo della scatola da dentro la posso modificare quindi il thread al suo interno può modificare quel valore e da fuori la posso leggere per questo che l'ho messa qua a cavallo quindi sono delle proprietà che dall'interno del thread possono essere aggiornate e dall'esterno del thread in particolare dal thread principale java effects possono essere lette per essere magari visualizzate quindi questo è già fatto già un meccanismo che già esiste facilissimo da sfruttare è già predisposto da java effects però chiaramente fornisce un'informazione povera a che punto sei arrivato se volessi sapere quante soluzioni hai trovato e quanti errori che non so hai trovato essendo due informazioni non ci stanno in una quindi devo inventarmi qualcosa di più allora posso inventarmi ciò che voglio usando questa scatola in alto posso decidere dall'interno del thread secondario che voglio modificare che so aggiungere una scritta modificare il colore di un elemento spuntare una casella cioè modificare il grafo della scena mi ha appena detto non si può fare no non si può fare direttamente da qua però io posso fare una classe speciale che contiene al suo interno l'istruzione di aggiornamento che voglio fare e fingere che sia un evento come tutti gli altri e questo evento inserirlo nella coda degli eventi quindi tra i vari eventi ci sarà uno speciale che è una classettina che contiene la mia istruzione di aggiornamento quindi quando io dal thread secondario voglio modificare qualcosa non posso farlo però posso preparare un messaggero una classe messaggero che viene accodata insieme agli altri eventi e poi con calma quando il ciclo principale il thread principale estrarrà quell'evento questo evento viene elaborato cioè viene eseguita la modifica e quindi il grafo della scena sarà aggiornato quindi è un'operazione di aggiornamento che non avviene subito avviene in modo ritardato infatti qui ho chiamato schedule for later ok metti in coda che verrà fatto questo non so quando presto ma quanto presto dipende da quanto lavoro sta facendo questo thread principale ma in ogni caso è meglio che niente l'alternativa è non farlo o non lo faccio o non aggiorno nulla oppure metto in coda qualcosa in modo che venga aggiornato il prima possibile poi in realtà spesso se il programma funziona bene in modo fluido cioè non abbiamo sovraccaricato la macchina sono tempi di millisecondi ecco solo che non ho il controllo preciso questo oggetto qua verrà eseguito quando vuole il thread principale e non quando vuole il thread secondario lancio un pezzo di me che faccia un lavoro e non posso avere nulla in cambio di ritorno ok allora vediamo cominciamo a vicinare il codice per fare queste cose allora innanzitutto la cosa più facile lo stato di lanzamento il progress un task in background ha già predefinite due avevo detto una in realtà sono due proprietà che posso usare per comunicare il progresso una è semplicemente una percentuale che poi posso esprimere come percentuale dal 0 a 100 oppure come coppie di numeri lavoro totale da fare lavoro svolto finora è uguale basta solo dividere uno per l'altro e ottengo la percentuale e poi posso anche avere un messaggio di tipo stringa sto calcolando sto lavorando sto finendo sto controllando i duplicati un messaggino di stato in cui il thread dice che cosa sta facendo queste variabili di progresso possono essere aggiornate come diceva la finestra vista dall'interno della scatola nera possono essere aggiornate in qualunque momento eme dal thread secondario e possono essere lette in qualunque momento dal thread principale poi vedremo che c'è un meccanismo molto carino automatico chiamato binding che permette di collegare direttamente quella proprietà del thread a una proprietà di un elemento di interfaccia grafica ad esempio io posso avere una label il nodo label dell'interfaccia grafica che ha una proprietà text io posso fare il binding cioè collegamento tra la proprietà progress del thread e la proprietà text della label questo vuol dire che automaticamente ogni qualvolta il thread bonificherà il proprio stato di avanzamento quella label cambierà quindi non devo neppure preoccuparmi io di andare a modificarlo ogni volta il binding dice a java effects pensaci tu a mantenere aggiornate questo elemento copiando i valori dell'altro di binding parleremo meglio quando parleremo di properties quindi questo per il progress per quanto riguarda il invece altre operazioni che non siano solamente comunicare lo stato di avanzamento devo fare quell'operazione di scheduling che dicevo prima quindi creare un nuovo oggettino una nuova operazione e chiedere al motor java effects per favore eseguilo quando puoi c'è un metodo che chiama run later che rende l'idea il tipo eseguilo dopo quando puoi la differenza è che questo la cosa a tenere presente è che questo run later eseguirà più tardi l'elemento ma lo eseguirà è un thread diverso rispetto a quello in cui è stato creato quindi questo meccanismo che mi permette di portare oggetti di una parte all'altra e poi c'è ancora un altro aspetto come faccio a sapere quando il thread ha finito io ho fatto una grossa elaborazione e poi a un certo punto quando il thread finisce conosco il risultato voglio sapere qual è il risultato che ha calcolato perché magari me lo voglio salvare nel modello lo voglio stampare da qualche parte allora io posso dal thread principale osservare lo stato del trasecondario ed essere informato tramite opportuni eventi eventi che non c'entrano con gli eventi di interfaccia grafica sono concettualmente simili ma sono diversi perché gestiscono lo stato del thread non lo stato di interfaccia grafica ma anche lì posso registrare dei gestori di eventi relativi ai cambi di stato del thread e per cui posso farmi informare cioè chiamare il mio gestore di eventi quando il thread ha finito e a questo punto quando il thread finisce io posso andare a leggere il suo risultato c'è un meccanismo attraverso cui il risultato può essere ritornato dal thread secondario al thread principale a questo punto il thread secondario è morto è finito è fermo e quindi non ha nessun problema a usare le sue variabili perché tanto non lo sta più modificando non ha più il problema di modifica contemporanea uno dei due è morto quindi l'unico che può modificare è quello che è vivo quindi è possibile farlo senza problemi allora queste cose come si mappano in JavaFX questi concetti si mappano attraverso delle classi che sono all'interno di questo package javafx.concurrent javafx.concurrent definisce allora in realtà Java già di per sé ha tutto ciò che serve per fare multitrading c'è una classe thread c'è un'interfaccia runnable che è come uno farebbe multitrading nativo in Java in JavaFX hanno però definito delle classi più semplificate che conoscono anche poi il meccanismo di funzionamento della piattaforma grafica quindi conviene usare quando possibile queste classi piuttosto che non quelle native di Java queste classi quali sono? sono due task e service che fanno parte di un'interfaccia unica che si chiama worker che sono dei runnable cioè degli oggetti che possono essere usati come task come thread scusate allora a noi interessa esclusivamente l'interfaccia task che differenza c'è tra un task e un service un task è un processo in background che inizia e finisce quando finisce ha un certo risultato da consegnare un service è qualche cosa che invece lancia in background e idealmente non finisce mai finirà solamente quando chiudo il programma e quindi qualche cosa che in parallelo va avanti per sempre gestirà certe certe operazioni quindi chiaramente le modalità di comunicazione sono diverse mentre un task fa un certo lavoro specifico ti passo dei parametri fammi questo lavoro dammi il risultato quando avrai finito un service è qualche cosa che lui parte e poi in qualche modo di tanto in tanto devo contattarlo per me li senti c'è questa cosa da fare quindi le modalità di comunicazione sono diverse per le nostre esigenze essenzialmente ci basterà lavorare con dei task sono più semplici task è una classe generica e quindi come parametro generico richiede un tipo V V è il tipo di valore del risultato cioè un task alla fine produce un risultato che cos'è questo risultato? un oggetto e io qua specifico di che tipo è questo oggetto che insomma nel caso del mio oggetto che faceva le combinazioni il risultato è un numero intero cioè il numero di combinazioni oppure potrebbe essere una collection di scacchiere se voglio averle tutte allora un oggetto è un pochino più grasso che è una collection di scacchiere che si porta dietro tutte le soluzioni trovate quindi io definisco quale è la classe che rappresenta il risultato dell'oggetto del risultato dell'elaborazione del task e quando il task è finito io posso usare un getValue per leggere questo valore prima che il task finisca non posso perché fino a quando lui non fa return il valore non è pronto se per caso ci fosse un task che non deve ritornare nulla vabbè posso definire con questo tipo fittizio void un generic di void fa un po' ridere ma si sono dovuti inventare un moro per avere un tipo che non facesse nulla allora qual è la vita di un task cosa fa beh un task può essere è un oggetto come tutti gli altri e attraversa nel suo ciclo di vita vari stadi il stadio più importante quello che a noi interessa è quello che lui chiama stato running cioè lo stato nel quale il task effettivamente sta lavorando e non è ancora finito di lavorare però ci accorgiamo che il task parte quando vuole quando il sistema operativo la macchina virtuale Java gli dice che ha a disposizione la CPU su cui lavorare se lavoriamo su una macchina scarica parte subito se la macchina è carica la Java potrebbe decidere di ritardare un attimo la partenza eventualmente quindi c'è uno stato precedente in cui io dico il task è pronto potrebbe partire ma magari non è ancora partito per ragioni interne di scheduling della macchina virtuale Java ma prima ancora dello stato di start c'è uno stato di pronto cioè io quando creo un nuovo oggetto di tipo task ho creato un oggetto che non parte subito aspetta il mio ok per poter partire perché deve aspettare il mio ok se ho creato l'oggetto perché non può partire subito ma perché magari devo impostarli le proprietà quindi creo l'oggetto imposto le proprietà che servono tipicamente vado a vedere il suo progress devo collegarlo a un'etichetta dell'interfaccia utente devo registrare un evento per sapere quando lui termina e così via quindi devo avere già l'oggetto su cui faccio delle cose ma l'oggetto non può ancora partire perché una volta che è partito non è più sotto il mio controllo quindi creo un oggetto è in stato di pronto imposto le proprietà che mi serve di impostare su questo oggetto e poi lo faccio partire faccio partire un thread che corrisponde a questo task e la classe task ha un metodo call che viene chiamato quando il task effettivamente può partire quindi il nostro codice dentro la classe task sarà effettivamente all'interno di un metodo che si chiama call quindi creare un thread in background significa implementare una sottoclasse di task e ridefinire il metodo call terra terra dentro il metodo call ci vanno le istruzioni che noi vogliamo che vengano eseguite ok poi il metodo call prima o poi termina quando il metodo call termina il task va in uno stato terminato questo stato terminato in realtà è critice distingue la causa per cui è terminato può darsi che sia terminato in modo normale attraverso un return ho ritornato il valore quindi va in uno stato di succeed sono terminato con successo oppure c'è una eccezione durante l'esecuzione del task che non viene catturata non viene gestita e quindi questa eccezione fa morire il task e lo porta però in uno stato failed quindi task terminato fallito c'è un terzo caso è quello in cui il task venga interrotto anzitempo chi lo interrompe anzitempo? beh il 3 principale eventualmente c'è il 3 principale che è qua può chiedere al task mentre il task sta andando avanti per favore interrompiti chiamando un metodo cancel e il task se si accorge che viene chiamato il metodo cancel può decidere di interrompersi non c'è modo di interrompere un task contro la sua volontà fermati e basta ma non si può fare l'unica cosa che puoi fare è chiudere l'applicazione allora lui muore di sicuro ma se vuoi solo uccidere il task non puoi la terminazione il cancelling l'annullamento di un task è un'attività collaborativa cioè il 3 principale chiede per favore fermati perché l'utente non ha più voglia di aspettare e lui dentro il suo ciclo dovrà ogni tanto controllare se per caso ha una richiesta di fermarsi allora fermarsi effettivamente allora in questo caso vado in uno stato di cancel ma diciamo così per il 90% dei casi ciò che ci interessa è quando il task raggiunge lo stato di terminato con successo perché lì c'è il risultato da leggere quindi in pratica dicevamo per crear un task devo fare una sottoclasse di task jvfx.concurrent.task parametrizzare questo sottoclasse con il tipo di oggetto che voglio ritornare quando il task sarà terminato con successo e fare l'overriding del metodo call e dentro il metodo call fare il lavoro che devo fare faccio il lavoro che devo fare e alla fine ritorno un oggetto del tipo chiaramente compatibile col tipo che avevo dichiarato all'inizio mentre faccio il lavoro devo in parallelo ricordarmi di fare due cose con una certa frequenza le due cose sono controllare se il principale mi ha chiesto di annullarmi chiamando questo metodo isCanceled un metodo di task che io eredito ovviamente periodicamente e se voglio anche aggiornare periodicamente le proprietà di progress con un metodo che si chiama update progress e così aggiorno questo valore che viene esposto all'esterno e che eventualmente l'interfaccia grafica potrà modificare poi se voglio posso anche schedulare degli aggiornamenti dell'interfaccia utente ma questo in più queste quattro invece sono i compiti obbligatori di cui devo tenere presente nel mio metodo call qui c'è un esempio di un task inutile che conta da 0 a 100.000 tanto per perdere un po' di tempo allora qui fa vedere la creazione del task questo è stato creato come classe inline cosa vuol dire? vuol dire che normalmente io dovrei creare invece è scritto una sottoclasse di task quindi class il mio task che conta fino a 100.000 extents task di integer era integer questo? si e poi definisco una classe che fa l'override di call quella classe viene istanziata una volta sola devo istanziare un task di integer il mio task uguale new mio task e verrà usata una volta sola allora devo fare un file java nuovo per un oggetto che userò una volta sola e che dentro ha implementato un metodo solo per evitare la proliferazione di classettine di questo genere usa e getta è possibile java supporto la definizione di classe inline allora guardate questa istruzione tipo variabile uguale new classe aperta e chiusa tonda il costruttore chiedete gli occhi per un attimo in fondo c'è punto e virgola se non fosse per tutta sta roba che sei in mezzo questa è semplicemente una creazione di un nuovo oggetto la differenza è che io non voglio creare un oggetto di tipo task ma un oggetto di una sottoclasse di task task potrebbe essere una super classe una classe astratta o anche un interface solamente questa è una scorciatoia per dire costruisco e definisco come funziona tra queste parentesi graffe questa e quella sotto una inner class anonima una classe interna anonima non ha nome costruisco un'istanza di una classe a cui non ho dato nome ma ti ho solo detto che è una sottoclasse di task quindi è una cosa un po' strana perché se non dentro il corpo di un metodo dentro il corpo di un metodo creiamo una nuova classe e poi non solo non contenti che l'abbiamo creata non gli diamo un nome la istanziamo la sua istanza invece ha un nome si chiama task è l'istanza di una classe anonima crea problemi di leggibilità perché abbiamo una definizione di classe dentro un'altra qui questo col è un metodo della classe anonima non c'entra niente col metodo in cui viene richiamato quindi un metodo di una classe diversa bisogna un attimo abituarsi però in questa programmazione asincrona è molto frequente lavorare in questo modo per non avere 12.000 classi che tra l'altro non saprei neanche come chiamarle e poi veramente viene usata solamente lì quindi quando parliamo di classe anonima in line è una cosa di questo genere in line perché proprio dentro tra il costruttore e il punto e virgola ci metto parenti di graffe e adesso ti definisco la classe se non vi piace se vi dà l'analisi a lavorare così non c'è problema create un'altra classe extends task di integer e la definite con calma in un file separato se questo metodo fosse lungo ovviamente lo consiglierei al 100% di farlo in un file separato ma se sono 4 istruzioni a volte si fa prima così magari anche più comprensibile perché vedo subito lì cosa sta facendo quella classe ok allora dicevamo metodo call fa tutto il lavoro alla fine ritorna un valore numero di interazioni che sarà se non sbaglio 100.000 anzi 100.000 e 1 è un intero compatibile ovviamente col tipo di dato dichiarato nel task e nel frattempo mentre lo lavora periodicamente controlla se per caso è stato annullato se è stato annullato cerca di uscire il più in fretta possibile questa cosa fa il break dal for e quindi ritorna il numero di interazioni a cui è arrivato fino a quel momento e poi fa del lavoro il fatto di aver definito questo però crea un oggetto di tipo task ma non lo fa partire che lo crea nello stato ready poi bisognerà farlo partire davvero dicevamo l'altra cosa che può fare il metodo call è aggiornare periodicamente il progresso allora il task la classe task quindi anche le nostre sottoclassi hanno già ereditano già tre proprietà una si chiama progress che è pensata per essere un numero tra 0 e 1 la seconda si chiama total work che è un numero qualunque positivo e la terza è work done che è un numero qualunque positivo compreso tra 0 e total work quindi io posso dichiarare il mio progresso o dicendo sono al 20% oppure dicendo ne ho fatti 17 su 340 come mi è più comodo queste proprietà tutte e tre sono leggibili dall'esterno e quindi possono essere collegate all'interfaccia tente ma dall'interno in modo più comodo di aggiornare tutte e tre in un botto solo quindi posso andare a settare set progress set work done set eccetera ovviamente lo posso fare su mie proprietà ma il modo più comodo è chiamare un metodo che si chiama update progress che ragiona tutte e tre contemporaneamente in cui passo le due work done e total work e lui si calcola da solo la percentuale quindi di tanto in tanto chiamo update progress non è che ogni volta che chiamo update progress il thread principale viene informato o generano degli eventi no semplicemente al giorno delle proprietà il thread principale lo leggerà quando vorrà eventualmente questa proprietà non sto dando del lavoro in più al thread principale rendo visibile ciò che faccio al mio interno quindi lo posso fare quanto frequentemente voglio così come posso aggiornare un'altra proprietà di tipo stringa che è una proprietà più descrittiva un breve testo in cui descrivo cosa sto facendo posso scrivere ciò che voglio lì dentro e per aggiornarla il modo più comodo è chiamare il metodo sempre di task quindi io eredito update message quindi update progress lo aggiorno magari sempre update message quando sto facendo qualcosa di diverso aggiorno adesso nella nostra proprietà ricorsiva ho una cosa sola ma altre cose potrebbero facciare la ricerca poi minimizzare la soluzione poi cancello i duplicati ho diverse fasi magari dell'algoritmo allora voglio informare a che fase sono quindi queste sono due metodi update progress e update message che possiamo chiamare dall'interno del metodo call del nostro task ad esempio così qui si dice se devo fare questo è sbagliato non è mille ma deve essere centomila il total work deve essere il valore massimo a cui il work done può arrivare al massimo quindi vabbè qui mentre lavora lui si prende un minimo di disturbo per andare a informare il suo padrone del punto a cui è arrivato ok una volta che abbiamo definito questo task a un certo punto dobbiamo farlo partire per farlo partire dobbiamo creare effettivamente un nuovo thread che è il contenitore in cui il task lavorerà e essenzialmente servono queste tre istruzioni crea un thread basato su questo task e poi lo faccio partire start il metodo start torniamo a questa figura porta il task in uno stato pronto all'esecuzione e poi il sistema operativo appena possibile lo eseguirà veramente lo porterà in running e quindi chiamerà il metodo call questa transizione di solito è istantanea non ce ne accorgiamo c'è dal punto di vista logico ma normalmente è istantanea e quindi faccio lo start del thread il quale è basato sul task che ho dato questo setdemon che cosa vuol dire? decide quali sono le condizioni di terminazione dell'applicazione l'applicazione java regola generale non vale solo per java fx termina quando tutti i suoi thread terminano quindi se c'è un thread che continua a girare sta ancora girando io non posso chiudere l'applicazione se ci provo l'applicazione rimane in stato congelato in attesa che comunque anche quel thread li finisca a meno che un thread sia dichiarato come un demone questa è una tecnologia un po' strana arriva dal concetto sistemistico in unix in linux i demon sono dei processi che girano in background e servono per svolgere servizi quindi loro in realtà girano sempre e se qualcuno richiede qualche servizio lo esegue altrimenti non hanno nulla da fare sono dei diavoletti che sono lì di nascosto pronti alla richiesta allora se un task viene marcato come demon allora è normale che il thread sia ancora attivo e la sua attività cioè il fatto che non sia ancora terminato non deve impedirvi la chiusura dell'applicazione e infatti quando l'applicazione viene chiusa o meglio l'applicazione si chiude quando terminano muoiono tutti i task ad eccezione dei demon i demon non contano nel vedere se sono attivi o no e cosa succede se l'applicazione termina e ci sono ancora dei demon attivi e vengono ucciusi quindi questo è un modo per dire guarda che io non vi ho fatto l'esempio con 8 della scacchiera perché so che ci vuole troppo tempo ma se lo facessi in un task parallelo e questo task non fosse importato come demon non riuscirei a chiudere l'applicazione fino a quando l'elaborazione non sarà finita se invece lo dichiaro come demon chiudo l'applicazione e quella l'elaborazione anche se non è finita viene uccisa di brutto perché l'applicazione muore quindi se vogliamo che chiudendo l'applicazione cioè chiudendo il thread principale l'eventuale il thread in background vengono uccisi li sentiamo come demon se invece vogliamo impedire la chiusura dell'applicazione principale fin tanto che il thread secondario non è finito allora lo metto se demon un false oppure non gli dico nulla tipicamente se il thread in background immaginate stia aggiornando dei dati del database non voglio che venga interrotto a metà del lavoro voglio che finisca anche se l'utente ha detto chiudi va bene aspetta un attimo che finisco di mettere a posto il database poi dopo chiudo se no ti lascio il database in uno stato incoerente metà giornata metà no quindi dipende da chi possa fare il thread essenzialmente ovviamente l'oggetto chiave è l'istituzione start ecco l'unica cosa un errore non so che mi sbaglio sempre perché thread e task si somigliano tanto come nomi lo start va chiamato sul thread non sul task quindi il task non ha un metodo start ha un metodo rank però non deve essere chiamato perché ci pensa il thread a chiamarlo c'è un po' di confusione perché non sapevano più che non inventarsi essenzialmente quando hanno inventato queste cose proviamo a cominciare a fare qualcosa prima di andare avanti a vedere come comunicare tra il task e l'applicazione principale allora proviamo un po' a migrare questa elaborazione all'interno di un task qui il nostro Ducalcola che abbiamo capito è troppo lento in particolare quanto a soluzioni è un po' troppo lento per i nostri gusti allora togliamo questo partenza qua che no no lasciamo lo lasciamo fatemi fare giusto per pulizia un branch diverso new branch questo qua si chiamava con l'interfaccia grafica e questo branch aspetta un attimo che chiudo l'applicazione team switch to new branch e lo posso chiamare siamo nel branch switch to new il master era quello dell'altra volta poi li pubblico tutti ovviamente però avendo i vari branch potete vedere le varie versioni lo chiamo async 2 cioè l'interfaccia grafica asicrona ok e da qua posso lavorare senza se facciamo casino possiamo tornare al branch di prima ok allora dicevamo voglio perlomeno spostare in un tasto diverso il calcolo delle soluzioni siamo dentro Ducalcola e quando abbiamo letto il valore del del lato della tabella da calcolare abbiamo stampato il valore partenza adesso dobbiamo il più in fretta possibile toglierci dai piedi cioè questo Ducalcola non deve prendere più di qualche millisecondo quindi lancio crea un task e gli dico caro task fa tutti i calcoli ok allora abbiamo detto crea un task che mi restituisca un valore intero che è il valore calcolato il tipo di valore calcolato da questo conta soluzioni è un int quindi questo task complessivamente farà il lavoro che deve fare task è una classe di java effects punto con current perciò perciò non prendere altra roba questo package che restituisce un valore intero e la variabile la posso chiamare una task minuscolo questo è il mio task in background lo posso creare come sottoclasse di task di integer inline anonima ricordiamoci che qua siamo sempre dentro l'istruzione in cui creo un oggetto quindi ci vuole il punto virgola qua in fondo qui ho creato un oggetto una sottoclasse una sottoclasse completa solamente quando fa l'override dei metodi estratti oppure dei metodi che io voglio modificare infatti non è contento Eclipse mi dice guarda che il nuovo tipo sottoclasse di task integer deve implementare il metodo astratto ereditato call cioè la classe madre è una classe astratta perché contiene un metodo call che è dichiarato astratto astratto vuol dire non implementato e quindi qualunque sottoclasse che non deve essere astratta cioè di cui istanzio un nuovo oggetto faccio una new deve ridefinire quel metodo la cosa bella di Eclipse è che se gli dici ok voglio aggiungerlo mi mette già la signature pronta quindi non devo andarmi a vedere la documentazione per vedere com'è il metodo call quindi override protected integer questo integer perché perché ho dichiarato integer il task metodo call e qua dentro c'è il metodo che ovviamente non ritorna l'arnal dovrà ritornare qualche cosa dentro questo metodo posso fare le operazioni che voglio fondamentalmente farò questa operazione magari prendiamo tutto questo così calcolo anche il tempo chiamo il metodo model punto contro soluzione di size e salvo il risultato in una variabile soluzioni la variabile soluzioni e poi il valore che posso ritornare al mio chiamante quindi quando il metodo call verrà chiamato non so quando in un thread diverso farà questo lavoro ecco c'è una cosa che a prima vista lascia sempre sconcertati e dice ma questa qui è una classe diversa ok immaginiamo di vederlo in un file java separato size cos'è model cos'è cioè se io sono dentro una classe io posso leggere le variabili di quella classe mia quindi per vedere size o model mi aspetterei che queste fossero dichiarate qui sono dentro una classe posso fare tutto ciò che voglio un private int size ad esempio e che questo size mi venisse passato alla classe nel costruttore da chi? da chi mi è creato? sì è tutto vero è tutto possibile in realtà c'è un meccanismo in più che è un nome strano si chiama closure se fate javascript ci morite dietro le closure perché è tutto così per cui una classe inline ha la visibilità delle variabili della classe all'interno della quale è definita è una gran porcata perché noi abbiamo un metodo ducalcola della classe controller che ha le sue variabili questa è una variabile locale di questo metodo size una variabile intera locale qua di ducalcola e per il fatto che questa classe è stata dichiarata dentro il testo di quel metodo si porta dietro memoria della variabile delle variabili diciamo così che erano state definite qua dentro nel momento in cui il metodo è stato definito nel momento in cui la classe è stata definita e quindi dall'interno dei metodi del task posso anche usare le variabili del metodo che le contiene è comodo ma continua a essere una porcata anche se è comodo si usa quindi è supportato dal linguaggio eccetera però facciamo attenzione che queste istruzioni non vengono eseguite adesso cioè se io qua dentro facessi size++ incrementassi size attenzione attenzione che qua sotto il valore di size non è cambiato non è stato incrementato perché non dimentichiamo che tutto questo è la definizione di una classe che verrà poi chiamata dopo non facciamoci ingannare dal fatto che quelle istruzioni sono tra la riga 41 e la 53 sono dopo la 38 e prima della 58 non vuol dire che vengano eseguite prima della 58 queste istruzioni verranno eseguite sicuramente molto più tardi in un momento in cui questo metodo Ducalcola probabilmente sarà già terminato e quindi questa variabile size in realtà non esisterà più nel metodo Ducalcola perché non esisterà più il metodo esisterà solo più la memoria della variabile size dentro la classe anonima line è complicato però se non ci pensiamo troppo funziona l'unica cosa facciamo attenzione è che ciò dobbiamo soltenere ben chiaro che ciò che scriviamo qua non viene eseguito adesso ma verrà eseguito molto più tardi ok però viene eseguito così mi dicono allora cosa faccio di questo task prima o poi lo devo far partire finora ho solo creato una variabile tipo task e poi lo devo far partire faccio partire abbia detto come creando un nuovo thread thread è un oggetto di nativo di java java.language non è specifico di java fx new thread partendo dal task quindi crea un nuovo thread e facci girare dentro questo task se vuoi diciamo che può essere ucciso a piacere non vogliamo che lui mantenga vivo l'intera applicazione e poi vai con questo chiamata start io effettivamente ho dato un calcio al mio thread al mio task che è stato incluso dentro un thread nuovo e gli ho detto vai fatti la tua vita io non ho più niente da fare a parte end start che non li ho salvati mi piacerebbe poi stampare il risultato dell'esecuzione di questo calcolo attenzione non lo posso fare perché il metodo start non aspetta che il thread termini il metodo start dice vai e il metodo start ritorna al chiamante quindi dalla riga 56 che è il metodo start alla riga 59 e torna immediatamente subito dopo quando il task ma non è anche ancora partito vediamo se sia terminato quindi in realtà io qua non posso ancora stampare il risultato perché non è ancora stato calcolato facciamo un passo alla volta poi vediamo come andare a recuperarlo è ovvio che questo trattato lo dobbiamo stampare prima o poi però adesso non è ancora pronto qua sotto non è ancora pronto normalmente dopo che io chiamo lo start di un thread è difficile che abbia ancora qualcosa da fare di solito non ho più niente da fare perché sono lanciato il thread e fino a quando il thread non mi ritorna qualche cosa non ho niente da fare non ne so più di quanto ne sapessi prima di lanciarlo quindi cosa devo fare allora vediamo se questa cosa fa qualcosa allora come faccio in realtà questo thread adesso se anche parte è invisibile io non me ne accorgo allora possiamo usare la console non possiamo mettere qualcosa nell'interfaccia grafica quindi possiamo usare la console che dica system.out il thread dice sono qua sono vivo started e gli faccio anche vedere la size solo scopo di debug ovviamente e poi finished size e poi posso anche mettere basta così intanto sono solo debug finished come l'ho scritto ok allora vediamo cosa succede rilanciamo il main e schiacciamo calcola allora qui abbiamo partenza che è stato scritto prima di creare il task qua poi dopo non abbiamo più scritto nulla ma nel frattempo nella console è compasso start thread file finished file quindi siamo almeno sicuri che queste istruzioni siano state eseguite se proviamo con qualcosa di un pochino più spesso il 7 ci mette un tempo apprezzabile nella console finisce start il 7 ma guarda che io nel frattempo posso lavorare con l'interfaccia fare altre cose spostarla ridimensionarla mentre lui sta calcolando cosa che prima non ero in grado di fare e poi a un certo punto il 7 finisce quindi effettivamente sta andando avanti in parallelo di più io posso dire mentre faccio il 7 calcola è partito ma nel frattempo posso calcolarmi un 6 perché mi serviva allora inizia e finisce il 6 in parallelo mentre il 7 sta ancora elaborando ma rifaccio un altro 6 perché mi serve e poi prima o poi il 7 finirà infatti è finito qua quindi ogni volta che schiaccio calcola mi parte un 3 parallelo che ha la sua elaborazione da fare e poi a un certo punto finirà nel frattempo l'interfaccia utente è completamente usabile l'unico difetto di tutto questo è che se non avessi accesso alla console non avrei modo di vedere che i task ci sono ma soprattutto anche perché non ho stampato non saprei quanto va il risultato quindi devo in qualche modo quando il task finisce accorgermi che è finito prendere il risultato e farlo vedere qua non solo partenza ma anche la fine con il numero di soluzioni che trovate ok quindi siamo riusciti a far partire il task il lavoro che ci rimane da fare è farlo terminare no perché termina da solo ma comunicare sia mentre va avanti che quando è terminato sembra che dopo l'intervallo possiamo farlo quando non è finito non vediamo tra di l'intervallo